Il Caltanissetta Soccer è ancora aggrappato alla matematica per non abbandonare il campionato di serie C2 di calcio a 5. Ma contro l'Argirium in quest'ultima giornata di campionato, la formazione nissena guidata dal duo Russello-Cammarata deve uscire da questa trasferta con i tre punti in tasca, consapevoli che non può anche bastare. Di fatto, la squadra nissena rimane anche condizionata da cosa farà la Grigendo Futsal, impegnata nella gara casalinga contro la Fulgentissima. Quindi il Caltanissetta Soccer non è padrone del proprio destino, un destino segnato da una stagione molto turbolenda con il baratro del ritorno in serie D molto vicino. Fin qui la compaggia nissena ha fatto registrare dati negativi in 21 giornate, collezionando solo tre vittorie e ben 18 sconfitte che hanno relegato il Caltanissetta Soccer nell'attuale ultimo posto in classifica, con la peggior difesa del campionato con 118 reti subite. Quindi sarà un'ultima giornata di passione per decidere chi tra Caltanissetta Soccer e Agrigendo Futsal retrocederà in serie D diretta e chi affronterà la Cireale Futsal nel play-out. Per il resto, il San Nicolò lo scorso fine settimana ha vinto il campionato a Prodando in C1 dove la prossimo anno andrà ad incontrare la Vigor San Gataldo, mentre già sicure dei play-off Polisportiva Nicosia, Arcobaleno, Città di Canicattì e Pedara. Calcio a 5, Serie C2, Girone C, ventiduesima giornata di campionato. Agrigendo Futsal Fulgentissima, Arcobaleno, Polisportiva Nicosia, Argyrium, Caltanissetta Soccer, Next Level, Città di Canicattì, Nicosia Futsal, Futsal a Cireale, San Nicolò, Pedara. Calcio a Cireale, San Nicolò, Pedara.